Lei è già stata ospite l'anno scorso, ci ha vietato e quest'anno l'abbiamo voluta. Lei ha detto il subito di sì e la ringraziamo. Alessia ha un prodigio, un piccolo prodigio, dico la piccola grande stella. Stasera ci canterà, iniziamo con un brano, come si intitola Alessia? Ciao, come si intitola? Lady Gaga, quindi. Allora, adesso facciamo partire la fase, chiamiamo Cobra Service alla console. Si dice così? Un applauso ad Alessia e grazie. Ecco, in diretta sempre da Didici, siamo in diretta e vediamo la... ...pantane, la coppia, la tombolata della voce. Un applauso ad Alessia e grazie. Il applauso ad Alessia e grazie. 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 Grazie.